Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Top Games. Io come sempre sono Andrea e oggi andremo a vedere cose da fare varie ed eventuali all'interno di Elden Ring. Anche questo video, come sempre, è offerto dal nostro sponsor, Aoea, un sito dove potrete acquistare armi, armature, materiali di gioco, rune e chi più ne ha più ne metta per Elden Ring. E se utilizzerete il coupon TOPGAMES riceverete un ulteriore 3% sul vostro acquisto. A questo punto non vi resta che iscrivervi al canale, lasciare un like, un commento qua sotto e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei nostri nuovi video. Come promesso ragazzi oggi vi porto a prendere le pietre di foggiatura funerea 8 e 9, ma lo farò in una maniera diabolica. Prima vi farò vedere come prenderle e poi vi farò vedere dove sono. La prima è qua ragazzi. Dovete fare fuori il nostro scarabeo amico mio e una volta ucciso lo scarabeo non dovrete fare altro che godervi l'arrivo dell'item, la nostra pietra di forgiatura funerea 8. A questo punto il giro che dobbiamo fare è semplicissimo ragazzi. Potete arrivare qua e dire santo cielo devo saltare di sotto come faccio oppure ragionare che c'è il sentiero. Quindi non dovete fare niente di strano ragazzi. Basta correre un pochino indietro stando attenti comunque ai draghi che ci sono lì nella pozzanghera bellissima. Ma arrivati a questo punto potete tranquillamente saltare di sotto e andare a prendere l'altra pietra di forgiatura che è la 9 che si trova qua in fondo dove c'è questo raduno di morti. Un luogo molto allegro comunque dove potrete pasteggiare e ridere con gli amici. Ed ecco a voi la vostra pietra di forgiatura funerea numero 9. Fate razzia prendete tutto non so se siano cose che vi servono ragazzi però già che sono lì. Quindi ci troviamo al draco cumulo occidentale ok? Si trova nella parte rossa della mappa è sulla strada quindi non dovete fare niente di strano per arrivarci. Vi basterà seguire il tragitto dal primo falò ad arrivare qua oppure dal falò più vicino che avete in questa zona. Che comunque siamo in Aldering e si chiama Grazia. Quindi ragazzi io spero di esservi stato utile anche in questo brevissimo video mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate un like un commento qua sotto e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei miei nuovi video. Ciao a tutti.